un saluto a tutti i followers di androidlive.it stiamo girando questo video demo a 1080p con Xiaomi Mi 3 quindi iniziamo i nostri test, va veloce, affittiamo di questa giornata di sole per fare un messa a fuoco veloce, molto bene, ottima la messa a fuoco, perfetto, facciamo lo zoom, veramente morbidissimo lo zoom, perfetto, ok quindi da questo video demo a 1080p con Xiaomi Mi 3 è tutto, un saluto da Shido per androidlive.it